E' il gioco, pensate, una finale del campionato del mondo. Anziore! Com'è questo mondo del cinema? Il colpo di testa è pieno di tiro! Oh, non ti schia! E' scritto un copione che è una favola, una bomba. E' entrata nella storia del cinema! Volete fare gli sceneggiatori ma non sapete fare gli spettatori? E' bellissimo fare gli spettatori, eh? Appassionarsi alle persone. Sono degli assassini, non hanno ammazzato loro? Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. Non mi lasciate solo questo cuore. Io devo lavorare, devo fare l'amore, ho il diritto di essere felice! E non sei solo. Forse c'è un destino, un disegno. Tutto ci portava qui?